buongiorno scusate ritardo ma obiettivamente in questi giorni non c'è molto di cui parlare però prima di tutto ringraziare la lidia che ieri ci ha fatto un regalo avete visto che bella foto che bella sorridente purtroppo il regalo della lidia è già finito e non mi riferisco al salarme che ci ha regalato ma la bottiglia di giovanni carminatore etichetta rossa che è stata disintegrata ieri sera e in realtà la lidia vuole farmi diventare un ecolizzato mi aspetto la prossima volta che mi regali non lo so del petrolio etichettato come vodka comunque ragazzi prima di tutto c'è uno di voi che ha un problema serio che però va risolto il tempo possibile io spiego anche qua signora il problema qui è prima di tutto capire i veri motivi i veri motivi che li devono far vedere su carta non basta che gli dicano al telefono deve andare a uno sportello inps e farsi rilasciare su carta una spiegazione chiara del motivo della revoca se il motivo è quello che le ho detto poi va in comune e cerca di capire perché i suoi dati non sono quelli che dovrebbero essere perché qui o ha sbagliato il comune o ha sbagliato l'inps uno dei due non si scappa una volta saputo bene cos'è me lo scrive e le dico come fare presentare un ricorso verso la revoca che comunque andrà fatto attraverso un caffè non è che non lo faccia lei da solo perché non esce sana andrà fatto attraverso un caffè però secondo me per come mi ha detto le cose i motivi per chiedere una revisione della della cosa ci sono e ci sono tutti però devo avere proprio un'informazione chiara su su quello che è accaduto ecco questo che è importante allora io volevo stare su leggero però sapete cosa è successo in questi ultimi giorni la scarcerazione di quella cosa perché ha perso secondo me il diritto di essere chiamato essere vivente di brusca ora io qui vi vorrei consigliare il video di vittor club su cui sono totalmente d'accordo perché allora facciamo un ragionamento umano etico morale per quanto tiene la morale della persona questa cosa diciamo che ti ribalta lo stomaco per non usare termini ti fa spuntare le unghie la wolverine ti fa sclerare ti fa uscire il fumo dal naso diciamo che è una cosa che indigna e sto usando un termine molto eufemistico perché umanamente naturalmente quella cosa lì non merita neanche di respirare non nascondiamoci e qui non facciamo la facile retorica da oliviero toscani quando non è ubriaco e per cui neanche neanche saddam hussein era da processare secondo me no certo 300.000 cur di gasatino non era da processare vabbè no non è quello il mondo una cosa non è quello il discorso umanamente penso capisco che se qualcuno comincia a stringere i denti i pugni sia naturale però dovete pensare a questo anche in memoria di una delle vittime di questa cosa cioè giovanni falcone giovanni falcone vuole una legge sui pentiti perché si era reso conto perché per combattere quello stato che aveva elementi interni allo stato e che combattere collaboravano a far sì che lo stato vero non potesse schiacciare quello stato finto era necessario usare delle tattiche intelligenti razionali in quello stato finto c'erano persone che una volta prese erano disposte a cedere c'erano persone che non si sentivano soddisfatte perché non avevano avuto la carriera che sognavano quelle persone possono dirci cose che per noi sono importanti certo ma nessuno fa niente per niente soprattutto con quella mentalità con quell'idea e quindi si è ragionati su questa legge e questa legge ha avuto conseguenze una conseguenza che sia falcone che borsellino sapevano potevano apparire sapevano che potevano comprare io ragazzi non so se qualcuno si ricorda quello che accade in quel periodo falcone era ostacolato da membri della stessa magistratura era ostacolato da altri magistrati e nessuno ha mai indagato veramente su quei magistrati non è ancora tempo di mani pulite in cui si indagava se uno si soppiava al naso ma anche adesso restamente io mi immagino adesso probabilmente questi magistrati erano torchiati ma forse neanche adesso perché lo vedete benissimo che il clima di autotutela c'è tra di loro ma nessuno indagò su queste cose ma come fai a difendere certe cose non è che un controllino neanche quello il fondo ragazzi il caso palamara non è che non è accaduto venti anni fa è caduto adesso che dimostra comunque che ci sia una struttura interna alla magistratura completamente fuori di testa però lo sapeva e ha scelto conscientemente che ci fosse questa possibilità e questa possibilità per un'ironia tragica l'ha potuta utilizzare la persona che gli ha tolto la vita per cui umanamente io capisco la rabbia ma io sono il primo ad essere incazzato e a dire che quelle persone meriterebbero di essere trattate come il contugolino sono il primo a dirlo sarei io il primo a metterci il mattone e anche l'ultimo a metterci il mattone chiedendogli se volevano una bottiglia di ammontillado per prendere gli tre momenti in giro questo quello che penso però queste generazioni umane lo stato deve cercare di vedere più in alto più più in là in modo più strutturato questo problema accade per un'altra di queste cose lasciate in libertà alcuni anni fa mi ricordo le parole di grasso sapevamo che poteva succedere con questa legge abbiamo dovuto valutare il peso che avremmo avuto sulla coscienza il rapporto ai benefici che potevano avvenire scoperchiando questi vasi di pandora che umanamente io non discuto se qualcuno vedendo quelle cose ha sclerato perché io sono stato il primo dal punto di vista del risultato finale però bisogna dirlo questa legge ha permesso che altre decine centinaia di quelle altre cose simili a questa cosa venissero incarcerate e magari siano beccati del gastro purtroppo la realtà è questa quando ti trovi a combattere una cosa così uno stato fuori dallo stato che usa mezzi che lo stato non può permetterci di usare perché altrimenti sarebbe un conflitto aperto si deve scendere questi compromessi che sono disgustosi per la coscienza che sono disgustosi ma il primo a saperlo erano proprio che gli hanno quelle persone che gli hanno chiesti perché cos'era l'altra soluzione cos'era guantanamo in italia guantanamo c'era la quale era l'altra soluzione ragazzi non si scappava da lì facevi una guantanamo in italia un abugraib in italia non si può eticamente non si può queste persone non ha cercato di ragionare in modo più alto e la gente non dovrebbe guardare purtroppo quelle che sono storture o conseguenze a cascame di queste città dobbiamo guardare l'esempio che queste persone hanno dato sapendo magari in cuor loro che forse un giorno le persone che loro hanno fatto del male avrebbero potuto andare libere hanno ecco quando si parla di senso dello stato visto che ieri aggiungo la festa della repubblica io penso che gente come falcone borsellino chinnici il fratello di mattarella don pino pugliesi tutte queste persone hanno dimostrato fattivamente il grande potente senso dello stato che avevano in loro sono stati esempi per lo stato esempi che purtroppo vengono citati solo quando fa comodo ci si dimentica di questi esempi per lo stato e questa è la cosa tragica la festa della repubblica in italia sembra quasi una una festa minore non non si valuta neanche l'importanza che a questa festa si è passati da una gestione in mano una famiglia di retrogadi reazionari colpevoli tanto quanto il tizio appeso a piazzale loreto perché quelle la verità erano colpevoli tanto quanto quella appesa piazzale loreto come era colpevole la classe industriale italiana che protesse quella persona dopo matteotti come era colpevole il potentato delle curie che portesse quella persona dopo matteotti quella gente non aveva il senso dello stato e per lo stato si sacrifica anche se stessi questa è una lezione importante che hanno dato falcone borsellino a fronte di quello che è accaduto adesso lo stato come esempio che un cittadino deve poter guardare qui si può rivolgere il fatto che questo stato in italia non c'è se non le persone nel cuore delle persone sono le persone che sono realtà lo stato italiano il popolo che lo stato la classe dirigente dello stato italiano ormai completamente slegata dal popolo si ricorda del popolo quando gli fa comodo ma non interessa uno che va a bersi il mojito al papete ora mangiare le ciliegie non me ne frega un cazzo queste sono cose che vanno bene per i fan non mi interessa che un politico recuperato da dalla francia dove poteva stare tranquillamente venga qui e spari cazzate di retorica sulle tasse di successione così interessa gente che veda che lo stato sono in rovina che serve un'azione decisa ma il problema che questi sono soltanto l'ultimo cascami di una serie di cascami perché ve lo dico perché se dovete prendere una cosa buona di questa situazione qui è l'esempio che proprio chi ha voluto questa legge ha dato di amore per lo stato di amore per la propria patria della propria terra anche a costo di sacrificare se stessi e anche a costo di accettare che i principi etici morali che hai debbano essere messi a tacere per un bene superiore io questa cosa non la vedo nei politici attuali forse non l'ho mai vista nessun politico però posso dire che ieri finalmente da noi il porco si è levato dai coglioni due partiti ha detto basta faranno alternanza di governo ed è cambiato il presidente della repubblica perché si era arrivati a un punto in cui lo stato doveva liberarsi di un parassita che rimaneva lì per evitare i processi che per corruzione che ne ha abbastanza da stare impegnato per 30 anni lo stato fatto su quel caso lì io qui in italia lo stato non lo vedo fare il suo perché adesso per esempio il caso del mondo di motterone cominciano già a volare è colpa tua è colpa mia di di chi è questo di chi è quello il solito è un palo di responsabilità è successo per morandi è successo per il vaio è successo per il gleno è successo l'incidente è sempre una colpa non è mai di nessuno prendete quello che hanno fatto alcune borsellino come esempio e ieri ricordatevi che si festeggiava la repubblica nel video di due giorni fa ho detto ve lo dico perché c'è una cosa che mi ha dato fastidio me la dico adesso la cosa che mi ha dato fastidio su youtube c'è un video dei film di don camillo e pebone che penso di averte visti tutti al di là delle considerazioni politiche quantomeno idiote che fece che ha fatto fruscianti merito quei film perché vuol dire il proprio siccome sei comunista loro di vivere un parrocchi che al confronto un cavallo da tiro c'è la visione delle stereoscopiche comunque c'era la scena di quella maestra reale realista monarchica fino al midollo c'è di umanamente anche qua sento questa che dice queste cose da me se vedete davanti a me con quello che hanno passato le persone della mia famiglia avrei anticipato tranquillamente la signora con la falce ma il senso non era quello il senso di quella scena era la pietà che si deve a una persona e il rispetto al valore di quella persona per quello che ha fatto poi se alcune delle sue idee mi danno il vomito non significa che siccome danno il vomito devo farmi giustizia quello era il senso della scena che aveva l'idea che voleva dare i guareschi si questa persona umanamente fa schifo l'idea che ha è imbottita di retorica che neanche neanche ne ho borbonici attuali però per quello che ha fatto come maestra per l'impegno che ha dato per la gente per quello che ha fornito la comunità tu non sei d'accordo ma le rispetti perché quelle idee non hanno in sé per sé non stavano facendo le mani a nessuno alla fine di questo video un breve video spezzone caricato c'è uno stronzo quello del canale proprietario del canale che ci ha messo la bandiera reale e ha scritto viva la monarchia ora io dico se tu e glielo hanno anche scritto sotto in diversi se tu hai un cervello che ha più o meno la dimensione di una noce di burro e stai sempre al sole quindi funziona anche poco vuol dire che non hai capito un cazzo di quello che ha detto guareschi che non hai capito un cazzo del senso della scena perché oltretutto non è una scena nuova come durante non so se non era lo stesso film penso fosse un altro Don Camillo c'è il ragazzo comunista che finisce purtroppo e al funerale Don Camillo suona le campane anche se tecnicamente non avrebbe dovuto concedere il suono delle campane a un perché? perché quel ragazzo lì era innocente è finito in una situazione tale che ha pagato colpe non sue che ha pagato il fatto che l'uomo sia stronzo sia pazzo che l'uomo non che l'uomo sia una belva lo so che sono un attimo uscito dall'argomento però c'è quello che voglio dire la festa era ieri ma se voi pensate alla Repubblica solo il 2 giugno allora non avete bene idee chiare su cosa sia la Repubblica la Repubblica siete voi lo Stato sono le persone e quando eleggete qualcuno lo eleggete dovreste leggerlo per fiducia perché vi sentite di dare in mano quella persona un potere che questa persona deve esercitare per il vostro vantaggio non per il suo purtroppo in politica ce ne sono troppi di razzi scilipoti e compagnia danzante quelle lì non sono persone degne di essere chiamati politici ricordatevi voi siete la Repubblica perché nel nome res pubblica che dovete che vi dovete riconoscere la Repubblica sono le persone e le persone come diceva una cantante hanno il potere ciao a tutti